Salve a tutti amici, in questo video vediamo come superare la missione e il talent show dei contadini su God Simulator 3. Come al solito dobbiamo pensare fuori dagli schemi, perché se andiamo ad esibirci c'è sempre qualcuno che non ci darà il voto. Vedete? Quindi che cosa dobbiamo fare alla fine per avere il primo posto? Dobbiamo intanto spaventare i giudici o comunque farli abbandonare. Basta dare qualche cornata ad esempio ai partecipanti, spararli verso di loro. Ok, se ne stanno andando. Bene, a questo punto dobbiamo andare a manipolare il risultato, quindi con la capra saliamo su tutti e tre i pulsanti verdi. Uno, due e tre. Ed ecco che abbiamo completato la missione. E andiamo adesso ad ottenere anche Mista Lento, nuovo equipaggiamento sbloccato. Spero di essere stato utile, un saluto.